Se la vi, se la vi Rosa Maria Scoresi, intanto buona giornata della donna. Grazie Antonio, davvero grazie. Oggi è un piacere averti con noi e parlare di Santa, che è stata la prima vittima accertata di stalking e di femminicidio in Italia. E lo facciamo non soltanto perché oggi è la giornata internazionale della donna, ma anche perché purtroppo nei giorni scorsi la cronaca ci ha imposto di tornare su questa storia. Un caso di cui avevamo già parlato, avevamo raccontato che tu sei stata vittima dell'assassino di tua sorella, che ha cominciato, o meglio ha continuato a perseguitarti, anche quando è tornato un uomo libero, quando è stato rilasciato dalla detenzione, non è stata proprio una detenzione, in un ospedale psichiatrico. E purtroppo nei giorni scorsi è stato assolto dall'accusa di stalking. Deve farsi curare perché è malato, come era malato all'epoca. Eh sì, è proprio così. È del 5 marzo la sentenza che ancora una volta lo assolve, cioè lo rende non imputabile per vizio totale di mente, nel momento in cui commette delle cose nei confronti della nostra famiglia, in particolare a questo punto nei miei confronti. è affetto da un delirio bizzarro, così è stato definito, dalla psichiatra che lo ha periziato, e quindi ci possiamo aspettare di tutto. In realtà appunto la sentenza prevede che in questo periodo lui sia praticamente libero, in attesa di essere collocato in una struttura come una CRAP, che diciamo non mi fa sentire assolutamente tranquilla. Intanto perché appunto nel momento in cui questa persona è libera, ed è una cosa appunto da ieri davantieri, Giuseppe Di Mauro è una persona che può tranquillamente circolare, io mi sento affetta appunto da una sensazione grande di ansia e di angoscia, che poi è la stessa, anzi, immaginatela anche i nostri genitori, che si aspettano in questo momento un minimo di tranquillità e di giustizia in più, che invece molto probabilmente non avranno. Non c'è nessuna misura in questo momento che mi faccia sentire tranquilla, non c'è un divieto di avvicinamento, non c'è nulla. fino a qualche giorno fa, quantomeno sapevo che aveva il braccialetto elettronico per le misure cautelari che erano scattate l'anno scorso, quando appunto ha cominciato a perseguitarmi attraverso messaggi sui social. Per cui con l'avvocata Maria Pia Vigilante, quindi anche sostenuta dalla PS Giraffa, di cui sono anche socia per un impegno sociale da sempre nei confronti delle donne e delle vittime di violenza, perché tutte noi possiamo avere dignità, abbiamo lavorato in questo senso cercando appunto di far notare quelle che sono poi le conseguenze che chi vive questi momenti deve assolutamente subire. Non è un controsenso, cioè noi ogni giorno, soprattutto quando ci sono poi, si verificano i femminicidi, si parla di inasperimento delle pene, si parla di rafforzamento delle misure a tutela delle donne e poi tutte queste restano solo parole? Beh no, diciamo che per fortuna per esempio dai tempi della morte di mia sorella, che è un femminicidio ma è anche allora, diciamo appunto, un'azione di un persecutore, perché poi il risvolto della medaglia, almeno nel caso di Santa, Santa Scorese, è quello che poi la vede anche, diciamo protagonista di un processo di beatificazione, in virtù del fatto che è una sorta di martire per la dignità della donna, no? E questa cosa va riconosciuta, ma è ovvio che non è sempre così, però con tutte le leggi che da allora si sono succedute e diciamo vanno migliorando nella teoria, le condizioni sono diciamo di maggiore speranza per le donne e anzi noi invitiamo comunque a rivolgersi sempre con fiducia innanzitutto proprio ai centri antiviolenza o comunque a non restare sole, a parlare continuamente di quelle che sono le situazioni in cui ci si trova. E' molto importante che tu lo faccia, nonostante tutto inviti le donne a non demordere, ad avere fiducia e a denunciare. Assolutamente sì, oltre che a denunciare, proprio a rendersi partecipi di un confronto, a rendersi tranquilli, a capire che possono essere accolte, che la loro voce non deve assolutamente restare voce nel vuoto, che ci sono persone competenti, non giudicanti, che mettono tutte, tutte nelle condizioni di cercare di trovare una soluzione o quantomeno di essere accompagnate. Poi la denuncia o meno dipende chiaramente dall'autodeterminazione che viene fuori da ciascuna di noi. Certo è che dal 1991 ad oggi, diciamo di acqua ne è passata sotto i ponti. E' chiaro che quello che salta, diciamo agli onori, quello che balza agli onori delle cronache, sono i casi in cui non tutto va, per il verso giusto. Ma quante persone attraverso tutto questo cammino si sono salvate? Quante persone riescono a vivere una vita più tranquilla, più normale? Questo però ovviamente non assolve gli uomini, quegli uomini che agiscono, violenza sulle donne, perché cambiando proprio il comportamento, educando anche le nuove generazioni, le mamme e i papà dei figli maschi, e io per prima sono la mamma di un figlio maschio e di una figlia femmina, cercando soluzioni educative, oltre che repressive, che talvolta ci vogliono appunto, guardiamo proprio il caso della mia famiglia. E quindi attraverso questo percorso, molte donne possono sentirsi rinascere anche. Noi in Puglia, diciamo, è una cosa bella, ma anche un grosso problema, il fatto che abbiamo un sacco di centri antiviolenza voluti dalla regione, più tutti quelli privati, eccetera. È positivo perché appunto sappiamo dove andare a parare se abbiamo bisogno e dobbiamo farlo, senza timore di essere giudicate, soprattutto questo. E d'altro canto, se ci sono tanti centri antiviolenza, vuol dire che il problema ormai proprio non è più un'emergenza, ma è strutturale. E questa cosa ci deve fare davvero molto riflettere, tenendo conto che io continuo a dire di credere assolutamente nell'azione educativa, che fa anche di Santa poi appunto un modello da tenere in considerazione. È alla luce di quello che è il problema sociale, ma anche della bellezza che poi, dal punto di vista spirituale, dell'esempio dell'andare controcorrente... Non si è mai piegata. Assolutamente no. E anche per un amore più grande, per cui appunto, dicevo, c'è anche un processo di beatificazione in corso, in fase romana avanzata, portato avanti anche da... supportato da una postulazione donna, laica, e la dottoressa Franca Maria Lorusso, la vice postulatrice dottoressa Picazio, ma comunque sostenuta dall'attrice che è la diocesi di Bari Bitonto, e quindi perché possa essere un modello di forza, di coerenza eroica, nel suo cammino, nel nonersi si piegata. Tanto da farle dire a Don Tino Lucariello, che era il suo padre spirituale, giovane sacerdote, allora sappi che qualunque cosa mi succeda, io ho scelto Dio, dopo l'ultimo biglietto che aveva ricevuto da colui che sarebbe diventato il suo femminicida, il suo persecutore appunto, o mio di nessuno e nemmeno di Dio. Oggi io non posso tacere per lei, per me, e per tutte quante quelle persone che credono e si affidano alla forza di tutte le persone, le donne, ma anche gli uomini di buona volontà, diciamo quelli con cui viviamo, delle vite serene, perché possano rendere la vita migliore a tutti. Posso permettermi di dire che anche tu per me rappresenti un modello di forza, di coraggio incredibile, perché dopo tutto quello che avete passato come famiglia, quello che continuate a vivere tutt'oggi, dire parole del genere non è da tutti, insomma. Non vivremmo, bisogna intanto essere resilienti, e poi io mi sono sempre detta se questa cosa è successa a un senso ce l'ha, e quindi se anche continua a succedere, malgrado io contesti davvero l'ultima sentenza, non è possibile, insomma, che siamo alle solite, sempre nella stessa condizione, però la forza di continuare a vivere perché appunto nulla sia per caso e nulla sia inutile è essenziale, altrimenti davvero sarebbe la fine. Rosa Maria, torno sull'aspetto di cronaca, state valutando comunque di ricorrere? Allora, l'avvocata sta cercando di studiare bene questa cosa e guarderemo, insomma, nei prossimi giorni al da farsi. Diciamo che c'è... Comunque la battaglia va avanti. La battaglia va assolutamente avanti. Nella maniera più assoluta non possiamo, diciamo, proprio spezzare. Anche se c'è, apparentemente, un cordone umbilicale che sembra tenerci uniti, noi è da 33 anni e anzi di più perché consideriamo i tre anni di stalking precedenti a questa persona. Ed è il tentativo appunto che l'avvocata, ma che comunque la società civile vuole fare, proprio quello di cercare di recidere questo cordone. E lo faremo appunto nei tempi e nei modi che valuteremo nei prossimissimi giorni. Invece sul processo di beatificazione di Santa che novità ci sono? Beh, io sono la sorella di Santa, non so proprio tutto tutto, anche se, diciamo, sono portatrice, no? Della sua storia, del suo vissuto. Il processo è in fase romana già dal 1999 e oggi più che mai attuale, proprio ieri, leggevo di Papa Francesco che si scagliava quasi contro la violenza sulle donne. Quindi, essendo un modello attualissimo, non passa assolutamente, diciamo, di moda. Si sta lavorando tanto perché la documentazione tutta sia analizzata nel più breve tempo possibile. È veramente questione, immaginiamo e speriamo, di non tantissimo tempo, anche se i tempi degli uomini non sono i tempi di Dio. Questo sicuramente è vero. Però è un modello così attuale che speriamo che in breve tempo, si possa arrivare a fare in modo che sia un modello ufficiale. Santa è santa, è santa al quadrato per tutti quanti ormai. Però pare che si stia guardando in maniera importante e seria a questo modello di giovane che poi è annoverata fra i giovani del sinodo, dei giovani, i giovani santi della porta accanto. Noi ci auguriamo che sia veloce questo processo, ma ce l'auguriamo soprattutto per i tuoi genitori. Ci auguriamo che presto arrivi, soprattutto per loro, perché tanto arriverà, perché tanto succederà, ma ci auguriamo che accada presto, soprattutto per loro. Sarebbe il giusto riconoscimento per tutto quello che avete patito in questi lunghi anni. Grazie, grazie Rosa Maria, grazie per la tua testimonianza. Grazie, buon lavoro a tutte e a tutti. Grazie. Adesso ci fermiamo, una breve pausa pubblicitaria, ma torniamo tra pochissimo.